A me dico la verità, in realtà mi dispiace anche continuare a parlare di questo tema, anche se onestamente dico la verità fino a una certa, perché se mi devo solo ed esclusivamente focalizzare su quanto ho visto dalla Juventus, beh, probabilmente è meglio sviare, anche perché intanto diresti stranamente le stesse cose per l'ennesima volta, per l'ennesima partita a distanza di settimane, mesi, forse, anni. Però come si fa ragazzi? Io continuo a rimanere interdetto, quantomeno voglio utilizzare questo termine qui, voglio rimanere interdetto perché va bene, era stato appurato da ieri sera, di fatto da quando Allegri ha iniziato a citare Candreva, cosa che se probabilmente non l'avesse fatto nemmeno lui non sarebbe proprio neanche mai uscita questa cosa. Al massimo sarebbe uscita sui vari social, dato che hanno iniziato a circolare già da ieri sera e stamattina dei video su Telegram che riprendevano, non su Telegram, pardon, su TikTok e i vari social comunque che iniziavano, dove veniva ripresa fondamentalmente l'azione e probabilmente da lì si sarebbe capito un qualcosa. Però a livello di televisioni, ieri sera se Allegri non avesse iniziato a citare Candreva, probabilmente nessuno si sarebbe accorto di questo. Cosa che poi effettivamente è emersa, che è stata sottolineata in modo più che legittimo e che continua ad essere dannatamente grave. C'è l'errore? Indubbiamente sì. Lo devi accettare per forza di cose, cioè i due punti non è che te li ridanno indietro. Bene o male devi andare avanti e devi andare avanti facendo tesoro purtroppo di ciò che ha espresso la Juventus in campo ieri. E su questo siamo tutti quanti d'accordo, perché a prescindere dai due punti o meno contro la Salernitana, andando avanti di questo passo, probabilmente di strada non ne fai neanche tanta e meritatamente. al netto del fatto che ieri però meritatamente il terzo gol al 96esimo l'avevi portato a casa. È un problema, porsi a questo punto? Beh, forse sì, se ti riduci a praticamente un episodio al 96esimo in casa contro la Salernitana, è innegabile che un problema di fondo c'è. Ma quell'episodio ti è andato nettamente a favore. E se prima cercavi di, in un qualche modo, cercare una spiegazione che non riuscivi a trovare, perché nel momento in cui si vede che palesemente Candreva tiene in gioco Bonucci non riesce a dare una spiegazione nel merito, cazzo, una roba era rimasta oggettiva, il fuorigioco. Il VAR, anche giustamente, si è sempre discusso per tantissime cose, ma probabilmente solamente una cosa metteva d'accordo tutti quanti, ovvero l'infallibilità riguardo il saper decidere o meno se un giocatore fosse in fuorigioco oppure no. Nel momento in cui ti viene a mancare pure questa cosa, è molto pesante, soprattutto se poi, il giorno dopo, ovvero proprio qualche minuto fa, l'AIA fa un comunicato dove dice che di fatto il VAR non aveva l'inquadratura adatta per saper stabilire se Candreva fosse o meno importante. Dì ragazzi, che cazzo devi dire? Come fai a fare un comunicato dicendo le immagini di Candreva non sono le immagini del VAR? Cioè quella determinata immagine non era a disposizione del VAR? E adesso vi leggo proprio in presa diretta il comunicato perché è una cosa molto importante, la nota proprio dell'AIA in merito all'episodio, e beh, quello lì ormai penso che tutti quanti ne siamo pienamente consapevoli. Dov'è che è? Perdonatemi veramente per questo piccolo stacco, ok? L'associazione tiene a precisare che l'organo tecnico della CAN ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del VAR e della VAR per la gara in oggetto non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. L'organo tecnico della CAN ha chiesto anche espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la VAR se la telecamera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla VAR. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione della VAR e pertanto non fruibile agli arbitri. Con quanto precisato, pardon, siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio che per quanto uno possa dire Dì, ci hai detto che non avevi le immagini per far capire la posizione di Candreva, non ne avevi le immagini tattiche che sono iniziate a circolare ieri sera, un tifoso come fa a non sentirsi preso per il culo? Perché quindi, a questo punto, nel momento in cui, dalle famose immagini che circolano, riprese dallo stadio, si vede il guardaline che all'altezza di Candreva, perché mi viene da pensare, vede Candreva, cazzo, ce l'ha davanti a sé, a sto punto poi perché intervenire con il VAR riguardo un episodio dove tra le altre cose non avevi le immagini complete che non ti davano la possibilità di vedere quale fosse l'effettiva posizione di Candreva che tenevi in gioco Bonucci. Come fai? Poi cazzo ti viene da chiedere ma solamente con noi non ci sono mai delle immagini chiare neanche per sbaglio? e già solamente per la partita di ieri oltre a questo episodio qui quello di Candreva che c'è qualche sospetto sul fatto che la butti dentro con le mani e non c'erano le immagini e ci puoi passare sopra. Effettivamente, da quello che facevano vedere si capiva pressoché un cazzo non hai la certezza di dire la prendi in quel determinato modo e va bene, ci passi sopra. Fino a prova contraria era anche il ventesimo e avevi col senno di poi vedendo quando è finita 80 minuti davanti a te. Cazzo, Zaccaria Bastoni? Eh, non c'erano delle immagini chiare. Oggi? Eh, vabbè, non avevamo le immagini tattiche quindi non potevamo sapere se Candreva tenesse o meno in gioco Bonucci. E ragazzi, ma qui si parla di due punti che ti vengono sottratti ingiustamente al novantasettesimo dove c'è ben poco margine poi di agire a maggior ragione poi con due spulsi. Uno perché Milik ha dato di matto al gol l'altro perché ha dato di matto quando l'arbitro ha fatto il simbolo del VAR che è quadrado e va bene. Però come fai a non sentirti in un qualche modo preso per il culo? Ma soprattutto da adesso in avanti cosa si farà? Per forza di cose ci sarà un sospetto per ogni scelta perché se neanche più il fuorigioco sarà oggettivo perché di fatto ieri è stato fanculizzato il VAR a livello di oggettività per quanto riguarda il fuorigioco poi di che cosa parli? Anche perché giustamente a uno non potrebbe venire il dubbio in questo caso quello del VAR da dire di effettivamente quando quadrado batte c'è Candreva sulla linea non sappiamo in quale posizione Candreva però ci può stare no? Porsi il dubbio ma non è che magari Candreva Bonucci lo tieni in gioco vedi il guardaline che effettivamente è posizionato in linea con Candreva e che quindi la bandierina non la alza mai né prima né durante né dopo però in tutto questo il VAR interviene valutando un fuorigioco senza tenere in considerazione del giocatore che teneva in linea tutti che teneva in gioco tutti di pardon e quindi poi uno che cos'è che deve fare uno si sente per forza di cose preso per il culo da tifoso poi non dico che quelli dell'AIA abbiano detto una falsità nel dire che non avevano a disposizione quell'immagini io ci credo però purtroppo di chiarezza non ne fai perché se non hai la possibilità di garantire che quello lì fosse oggettivamente fuorigioco perché intervenire perché intervenire tracciando una linea che è falsa rispetto alla realtà al novantasettesimo minuto quando non c'è veramente poi più margine di recuperare soprattutto poi se ti ritrovi a giocare in nove tra le altre cose che vabbè tanto poi per quanto per quanto si è giocato dalla ripresa del gioco in avanti si saranno giocati una quindicina di secondi forse insomma però è grave questa roba è veramente molto grave perché praticamente in questo modo hai ammesso abbiamo fatto la porcata in maniera involontaria indubbiamente ma abbiamo fatto la porcata e un tifoso si sente preso per il culo quantomeno è il mio pensiero oltre che essermi sentito preso per il culo da quella che è stata per l'ennesima volta la prestazione in particolar modo dal primo gol all'intervallo da parte della mia squadra che sicuramente non ha contribuito a rendere più lieve questa situazione qui perché anche questo è doveroso dirlo per forza di cose come ho detto nel video che era uscito verso orario di pranzo se fosse stato in occasione del 4 a 0 ci saremmo fatti tutti quanti una risata e ci saremmo portati a casa un 3 a 0 con una porcata disumana ma comunque con due punti in più e quantomeno un giocatore in più perché tanto Milik la boiata l'ha fatta quindi a prescindere quella ti rimane e tanti saluti ma in questo modo qui purtroppo ha preso un peso specifico devastante quella scelta e come fai a scegliere in questo modo in un momento così delicato quando non è le immagini per garantire il fatto che Bonucci fosse effettivamente in fuorigioco boh non lo so ragazzuoli non lo so detto questo onestamente basta a meno che non verranno fuori dei temi particolarmente delicati e doverosi da trattare sulla vicenda direi di accantonare definitivamente la partita di ieri anche perché domani ce n'è un'altra altrettanto importante contro una squadra che quest'anno su 11 partite ne ha vinte 11 con 28 gol fatti e 5 subiti che gioca e corre e se tu fino al 96esimo sei in una situazione di 2 a 1 per gli avversari in casa e la squadra risponde al nome di Salernitana è evidente che contro il Benfica servirà tutt'altro e sin da subito preferibilmente senza uscire mai dalla partita cosa che invece puntualmente abbiamo visto e puntualmente questa cosa ci ha giustiziato però mi sembrava onestamente doveroso anche fare questo video qui l'arbitro sarà pure l'alibi dei perdenti fino a prova contraria è vero perché ci stiamo lamentando di questo però non puoi neanche leggere poi delle giustificazioni di questo genere perché di fatto hanno dato certezza che t'hanno fottuto due punti né più né meno voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao